buongiorno ragazzi anzi buonasera a tutte e buonasera a tutte anzi perché un pomeriggio ormai è passato quindi vabbè allora niente ragazze come state spero bene allora e realizziamo volta che registro sto video perché ogni volta registro sto video poca memoria nell'altro telefono per l'iphone 7 quindi provo questo qua lo show mini 11 light da 128 gb si dunque come state stavolta lo farò corto perché non voglio di editare troppo il video quindi non farò troppi giri di parole e niente allora io li sono state in posta e ho fatto un sacco di cose e poi ho preso un caffè sono andata al centro a un centro di aggregazione con una mia amica barra pedagogista e ho clicchierato un po con lei ho socializzato con lei e basta e poi siamo andati in posta a fare lo speed ma nulla da fare allora la password le ho le mail ce l'ho ma non riesco ad entrare nel sito delle poste non so cosa sta succedendo non riesco ad entrare nel sito delle poste quindi quando ogni volta mi sa che mi tocca andare o lunedì prossimo o non lo so vediamo se lunedì o mostri di o venerdì vediamo e quindi niente ragazze era solo per dirvi che praticamente ho bisogno di 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 fare di fare questa registrazione allora mi sono registrata al sito delle poste italiane però non riesce di di entrarci e quindi non lo so perché di accedere avere libero accesso al sito delle poste italiane con la mia password delle mie mail non lo so perché ho ritentato più volte niente a fare oppure scaricato l'app nulla boh vabbè allora ero vestita con un kimono ieri kimono con il primo capuccio e più questa borsa qualche è sempre la solita borsa questa qua con i manici e l'altra collina vedete questa qua è bellissima la adoro vedete ma sempre questa borsa e si ragazze mi piace molto l'utilizzo poi come trucco aveva l'infallibile allora trucco avevo le sopracciglia e le sopracciglia per le uniformate con la matita con le mosse con i mattettina che avete sempre voi se mi avete visto un altro video che vi linkerò da una parte o nell'infobox non lo so un po di correttore un filo di correttore dell'infallibile dell'oreal cashmere 327 ovviamente tutti tutti i prodotti che vi ho citato che vi sto citando finora ve li metto qua sotto l'infobox quindi cliccate nel menu tentino che si trova qui nel triangolino non so se la destra o la sinistra comunque niente e vi dicevo ho fatto un po di mascara ho applicato e un po di bronzer rimel rimel mascara e rimel bronzer basta null'altro come scarpe avevo le nike ieri e oggi sono vestita con potremmo vedere ciò le mie santi pantaleggis della bombrix e questa maglia della bombrix questo è anti sudore però ce la sapete ho detto miglia di volte e vabbè e niente quindi ragazze dal fatto che finalmente sono riuscita a fare questo video non ci voglio dire troppo intorno tra un po il mio compleanno ma non credo che lo festeggerò in diretta con voi vediamo cosa posso fare se lo festeggio in diretta con voi oppure no vediamo non ne ho idea un bacio non l'ho detto all'inizio lo dico adesso mettete un bel like commentate non lo editerò lo edito così com'è e ciao a presto un bacio